Ciao a tutti ragazzi bentornati qui con Banana su Banana Food and Game oggi andiamo avanti a FIFA 17 nella mia carriera con la Lazio ecco qui gli impegni di questo video dopo il ritorno con l'Arsenal abbiamo il Cagliari e il Verona ragazzi dobbiamo andare a fare l'impresa 4-2-4 ragazzi non posso fare altro persa 4-1 all'andata subito ultra offensivi e si comincia ragazzi si comincia non abbiamo altra scelta dobbiamo vincere 4-0 per passare o 4-1 per andare ai supplementari già sappiamo comunque che non passeremo perché l'impresa è impossibile però mai dire mai Sanchez, Koke, guarda che cazzo stavo a fare stavo rischiare a perdere palla Willems, c'è spazio per Kicna, Kicna il dribbling, Kicna per Rashford, Rashford la ribattuta, Marcus, Rashford, dagli così 17 e 37 subito, subito, senza replay, senza cazzi vari, senza sultanze un po' di replay si guardiamo però daglie così ragazzi se l'era magnato Rashford e poi il tap in a porta vuota passiamo in vantaggio ragazzi, buono così, daglie, nel primo abbiamo fatto, su Sanchez, Koke, Koke, dialogano i due, anche di tacco, attenzione, Welbeck lancio per Oxlade, Chamberlain, fuori Royce per Renato Sanchez, Sanchez per Bernardeschi, a vuoto il difensore, tiro di merda a Bernardeschi calcio d'angolo per l'Ajax, la palla va in mezzo, libera la difesa, ora Rashford, ottimo il controllo, tiene palla la palla poi a Kicna, Kicna la ridà a Rashford, corta, però Rashford riesce comunque a lottare recupera Royce, Royce, bella la palla per Marcus, 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 Rashford taglia così ragazzi, poco prima della fine del primo tempo, al 43 e 35, raddoppiamo 2 a 0 ragazzi, incredibile questa azione, avevo perso palla in parte forte ma comunque poi con la caparbietà siamo riusciti a riportare avanti la palla e a segnare grande Rashford, doppietta, sempre più decisivo Marcus Rashford, il problema però ragazzi è che mancano ancora due gol, mancano ancora due gol, però ho diviso i gol, due nel primo tempo, speriamo di farne due anche nel secondo, daglie così ragazzi, daglie così con questo contropiede, dai dai dai, Arsenal che attacca e finisce, finisce ragazzi 2 a 0, 2 a 0 ragazzi, ancora il loro vantaggio è tanto quanto meno del culo per l'andata però ce la si può fare, basta fare un golletto subito, Welbeck, Koclen, Welbeck non bisogna prendere gol, mamma mia, calcio d'angolo Royce, dietro per Sanchez, siamo al sessantesimo, Rashford dai, mi sono dovuto allargare Rashford palla in mezzo, Williams di merda Bernardeschi, Bernardeschi il cross, esce il portiere Renato Sanchez, dai ragazzi serve un gol, Kirchner, Kirchner ribattuto, serve un gol eh niente ragazzi, finisce qui, no, e dai, è pure rigore finisce qui la nostra avventura in Europa League ragazzi, tutto rovinato con quei 90 minuti dell'andata in casa quei scellerati 90 minuti, qui ha dato sto rigore, vabbè, imbarazzante io fammo tirà a Sanchez Donnarumma della Pinderculo, non segnate oggi fuori, niente ragazzi, niente finisce qui, finisce 2 a 0, al ritorno abbiamo dominato primo tempo sta dominato, secondo tempo eh, l'Arsenal ha fatto la partita che doveva fare, ha controllato il risultato, niente passano loro, passano loro finisce qui la nostra avventura in Europa League ragazzi ci dobbiamo adesso concentrare esclusivamente sul campionato Lazio Cagliari, formazione titolare eh, adesso saranno sempre formazioni di titolari perché da qui alla fine ogni partita sarà una finale cominciamo Lazio Cagliari Tilemans, Bernadeschi, Sanchez dai ragazzi, almeno il campionato eh Rashford se ne va, me sto giù, me sto giù, me sto giù fallo da dietro, giallo sicuro, rosso non credo ma giallo glielo dà al nostro caro Salamone Salamone, ammonito Salamone, ammonito va a battere Tilemans questa munizione porca vacca, porca vacca, per poco segnavo ragazzi Farias, in profondità per Murru Murru controlla Murru, palla dietro, Farias Mbappé, Mbappé per Willems Willems, cross in mezzo Bellissimo ragazzi, bellissimo Marcus Rashford, mi stava a picciare ma che gol ha fatto, ma che terzo tempo ha fatto stacca all'indietro, Marcus Rashford e in sacca di testa con un colpo di collo impressionante Marcus Rashford dagli è così ragazzi, passiamo in vantaggio passiamo in vantaggio la lotta per il campionato è a tre ma ormai diciamo a due più che altro, però andiamo avanti così cross, liberato dal portiere attenzione, il tiro porca vacca un po' più alto era quello ragazzi vediamo, carciotando Mbappé sul finale del primo tempo Mbappé entra in area Mbappé, ho sbagliato, devo andare dall'altra parte finisce qua il primo tempo ragazzi l'importante sono i tre punti ormai non mi interessa più niente del gioco dei gol, l'importante è vincere adesso Bernardeschi Bernardeschi entra nella tivore Bernardeschi, palla in mezzo il miracolo il miracolo di Storari ma come cazzo ha fatto appiare sta palla come ha fatto porca vacca ha solo alzato le braccia e gli è andato addosso bella bella Muriel Muriel la ridà Bernardeschi il controllo porca vacca poi è brutto il tiro però era stata una bella azione bella la palla di Muriel bello il controllo fuori però attenzione al Cagliari con Cepitelli cross in mezzo miracolo di Donna Roma ragazzi miracolo di Donna Roma all'81esimo era pareggiata questa miracolo di Donna Roma meno male gli ha tirato in faccia Cataldi Danilo Cataldi per Mbappello Tin Muriel 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 rientriamo Muriel palla per Sanchez e la chiudiamo all'86esimo ragazzi Renato Sanchez 2-0 e altri tre punti portati a casa nella strada che porta allo scudetto dagli così ragazzi dagli così dagli così dagli così altri tre punti 2-0 rivediamo il gol questi festeggiano esultano anche giustamente ragazzi Storari ha fatto qualche bella parata ma qui non poteva fare niente Muriel il dribbling lasciano Sanchez completamente da solo esterno destro collo esterno e la palla si va ad infilare in rete Storari non può niente 2-0 lancio lungo per Bernardeschi bellissimo il controllo di tacco un po' meno bella la palla per Muriel Muriel per Mbappé Mbappé sono riuscito ammagnamme sto coro ragazzi incredibile porca vacca che me sono magnato dovevo dire subito con Mbappé vabbè pazienza attenzione Cagliaric attacca gestiamo bene finisce qui la partita ragazzi finisce qui 2-0 3 punti sulla strada per lo Scudetto Lazio Verona ragazzi siamo a pari merito con l'Inter pari punti vediamo un po' mancano 4 partite ecco qua ragazzi Lazio Verona cominciata la partita altri 3 punti non mi dispiacerebbero mancano 4 partite alla fine siamo a pari punti con l'Inter ragazzi siamo a pari punti vediamo un po' attenzione 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 fuori 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 Marco Reus rientra sul destro Reus il cross in mezzo Sanchez ora palla per Rashford si gira Rashford si gira palla in mezzo la palla rimane lì il miracolo il miracolo del portiere del Verona Larsen il miracolo sul tiro di Koke con la punta Kicina dalla bandierina esce il portiere ora arriva Don Sa Don Sa il tiro palo esterno per Don Sa che legna ora il cross niente da fare Reus Reus rientra sul destro Reus il tiro di Reus e vola ancora Larsen protagonista in questi primi minuti di partita Sanchez Koke proviamo a ripartire vediamo se ci fa fare questa azione Rashford finisce qua il primo tempo ragazzi il primo tempo che ha visto Larsen portiere del Verona protagonista le ha prese tutte sto maledetto vediamo dai dai 65esimo quasi dobbiamo segnare Muriel palla in mezzo ma che gol hanno fatto ragazzi tutto al volo tutto al volo ragazzi questo è gol dell'anno Marcus Rashford gol dell'anno ragazzi tutto al volo Muriel per Rashford dai ragazzi dai tutto al volo dai fischia arbitro fischia la parata di Donna Rum finisce qui ragazzi gli ha pure regalato il pallone e il pallone gli avevo finisce qui altri tre punti con un gol bellissimo tre punti sudati però taglie così ragazzi taglie 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 speriamo che l'Inter ha o perso o pareggiato ma è vero dura vedete ragazzi eccoci qua l'Inter ha perso quindi siamo tre punti sopra e mancano tre partite impegni del prossimo video dopo il Milan abbiamo il Genova e la Fiorentina e la Fiorentina